Il tratto autostradale che attraversa Sala Consilina ha fatto da sfondo al nuovo colpo inferto all'Andrangheta dalle forze di polizia. Il boss Bruno Palamara, 51 anni, esponente dell'omonimo clan, è stato infatti arrestato sulla 3 all'altezza della cittadina capofila del Vallo di Diano, in direzione nord, dagli uomini della polizia stradale. L'arresto è avvenuto su indicazione degli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Polizia da tempo sulle sue tracce. Palamara, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi, viene considerato dai magistrati di Reggio Calabria e di Roma elemento di vertice dell'Andrangheta, in quanto broker in Europa del traffico di stupefacenti. Secondo le indagini dello SCO, l'uomo operava tra il Belgio, l'Olanda e la Germania, curando le rotte del nord Europa del traffico internazionale di stupefacenti. Bruno Palamara è il terzo boss dell'Andrangheta, arrestato nei primi sei mesi del 2014 e purtroppo non è il primo che avviene in provincia di Salerno. Pericolosi affiliati ai principali clan malavitosi sono stati acciuffati in più di un'occasione anche a godersi il mare e il sole della costiera celentana. Nel caso di Palamara si è trattato di un solo passaggio in provincia di Salerno. Grazie a tutti.